Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria a parlare nuovamente di un'arma da fuoco che è sicuramente una delle più note e celebrate della seconda guerra mondiale perché parliamo di questa, eccola qua, quattro ferracci piegati, un tubo, una molla e un caricatore lo stenn, il mitra stenn e questa qua, eccone qua, questa è l'immagine di un fante inglese con, notate bene, la particolarità di questa impugnatura anteriore artigianale probabilmente effettuata sul campo da un fabbro regimentale che era una soluzione molto intelligente, se vogliamo, per, come dire, evitare certi problemi allora, dicevo, lo stenn è sicuramente una delle armi più famose della seconda guerra mondiale quattro milioni di esemplari, un'arma semplice, elementare oserei dire oserei dire proprio una cosa, come dire, una cosa proprio che più elementare di così non si poteva perché era realmente un qualche cosa, un'arma che poteva essere fabbricata veramente parti di quest'arma venivano fabbricate nelle ditte che producevano i tappi di metallo per le bottiglie eh, sì, sì, perché si trattava di un progetto d'emergenza allora, dovete sapere una cosa negli anni 30 l'esercito inglese aveva pensato di adottare il Tommy Gun, il Thompson ok, il moschetto automatico Thompson da in calibro 45 ACP però diciamo che fu una cosa che si limitò ad un blando interesse in realtà l'alto comando britannico pensava che il mitra, che insomma la pistola mitragliatrice fosse più o meno un'arma da gangster ma che cosa successe? successe che ci fu Dunkirk, che ci fu la catastrofe di Dunkirk che l'esercito inglese praticamente perse quasi tutto l'armamento e che ci si trovò nella necessità di armare subito, immediatamente, massicciamente l'esercito per la difesa della matripatria per la difesa del territorio metropolitano britannico ok? e quindi che cosa accadde? nell'armeria di Anfield due tecnici, ovvero sia Reginald Shepard e Harold Turpin si misero a studiare la produzione di un mitra il più semplice ed economico possibile fonte di ispirazione i mitra tedeschi ok? e come dire mettiamola così l'esercito chiedeva a gran voce una copia della pistola mitra elettrice tedesca MP40 e ricordatevi una cosa l'MP40, anche se viene detto spesso Schmeisser non ha niente a che fare con Schmeisser non si è mai capito perché gli abbiano dato sto soprannome allora il reparto progetti della fabbrica d'armi di Anfield respinse il suggerimento di elaborare una copia fedele dello Schmeisser ma tenne conto delle caratteristiche delle armi tedesche in un nuovo progetto adattandone le caratteristiche ad un disegno molto più semplice il risultato fu questo ripeto questo qua eccolo il mitra stan un tubo una molla quattro ferracci piegati costo di uno stan costo di uno stan più o meno tanto per dire una cosa con un MAB con il costo di un MAB si ricavavano almeno una decina di stan forse anche 15 per dire perché era un'arma concepita per funzionare per essere prodotta in economia e in grandi quantità e allora i due progettisti ovvero sia Shepard e Turpin diedero il nome a quest'arma Shepard S Turpin T Anfield N Stan ecco il nome del dell'arma ecco il perché del nome Stan eccolo qua insomma il fatto è questo qui il primo modello allora mettiamola così le prime prove furono eseguite nel gennaio 41 otto mesi dopo la decisione di costruirlo e i primi pezzi uscirono dalla catena di montaggio a giugno dello stesso anno questo primo modello questo primo modello il Mark 1 nonostante il tentativo dichiarato di privarlo di qualsiasi fronzolo era pur sempre un po' troppo raffinato il Mark 2 ovvero sia questo come vedete fu spogliato praticamente di tutto era estremamente essenziale non c'era niente di più di quello che serviva a puntare mirare e sparare non esisteva alcunché di superfluo il semplice caricatore a pacchetto era una copia diretto di quello della MP38 tedesca e conteneva le stesse 32 cartucce parabellum calibro 9 mm il corpo era costituito da un tubo in acciaio l'alloggiamento del caricatore era in laminato modulato a pressione il calcio era un pezzo di acciaio tubolare e l'impugnatura a pistola era uno stampato di acciaio le sole parti lavorate erano la canna e l'otturatore ed entrambe molto 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 sobriamente quest'arma poteva essere fabbricata nella più modesta delle officine e la produzione fu estesa anche alle piccole ditte meccaniche in tutto il paese la produzione raggiunse traguardi quantitativi molto considerevoli nel 42 una fabbrica specializzata produceva più di 20.000 stan alla settimana il totale superò i 2 milioni e con quelli prodotti nel dopoguerra diventano 4 per dire ecco nel 42 allora dicevo nel 42 scusate la bsa ne costruì più di 400.000 dei due tipi il mark 1 e il mark 2 e il totale di tutti i tipi ripeto superò probabilmente i 3 milioni e mezzo di pezzi se non i 4 lo stan mark 2 aveva il vantaggio di poter essere smontato facilmente attrasse così l'attenzione dei combattenti della resistenza nei paesi occupati i quali potevano portarselo in giro nelle borse della spesa o nelle cartelle il mark 3 era ancora più semplice aveva la canna fissa e il castello era costituito da un unico pezzo ciò eliminava diversi processi di fabbricazione riducendone ulteriormente tempi e costi tempi e costi questo modello fu costruito anche nella fabbrica di long branch in canada presso le truppe britanniche divenne tanto comune quanto il mark 2 anche se non ne furono esportati altrettanti esemplari poi vennero le poco varianti le riuscite le poco riuscite varianti del mark 4 per i paracadutisti che aveva un calcio pieghevole e un corpo accorciato ma queste varianti non non furono soddisfacenti e quindi non furono mai introdotte nel 43 si si introdusse la produzione di una versione del mark 2 munita di silenziatore arma di grande successo che rimase in dotazione a lungo anche dopo la guerra questa fu probabilmente l'arma munita di silenziatore più largamente utilizzata nel corso dell'intero conflitto perché venne anche distribuita in tutta l'europa agli uomini dei vari movimenti resistenziali l'ultima versione dello stan fu la mark 5 del 44 essa fu intredotta nel tentativo di superare alcune delle critiche di chi si era servito dei modelli 2 e 3 dei quali si diceva fossero scarsamente sicuri e soggetti a inceppamenti nei momenti critici queste critiche erano in parte fondate soprattutto per ciò che riguardava il caricatore che essendo a fila semplice di cartucce bastava un lieve danneggiamento che si ripercoteva sull'alimentazione il caricatore però rimase invariato e le attenzioni furono concentrate nell'ottenere un mitra più robusto e rifinito il mark 5 rappresentò certamente un decisivo miglioramento esteriore a confronto dei precedenti modelli ed era pure più maneggevole il calcio in impugnatura anteriore era una pistola in legno con qualche friggio in più le tolleranze furono mantenute entro limiti più stretti e l'efficienza meccanica raggiungeva un eccellente livello quest'arma fu adottata immediatamente dalle truppe avio trasportate e fu largamente utilizzata dal memorabile giorno dello sbarco in normandia in poi c'è da dire una cosa a proposito della creatura di shepherd e turpin come ho già detto nel 1938 l'esercito inglese mostrò un totale assoluto e completo disinteresse nei confronti dei mitra nei confronti delle pistole mitragliatrici perché pur avendo come dire la licenza di produzione per il thompson per il tommy gun decisero di non costruirlo perché lo ritenevano nella loro mentalità conservatrice un'arma da gangster però che cosa accade dunkerque ripeto dunkerque la catastrofe di dunkerque la necessità di riarmare da capo l'esercito la necessità di riarmare i soldati con un'arma rustica semplice di facile manutenzione economica e che fosse facilmente utilizzabile e oggettivamente lo stan aveva queste caratteristiche tutto qua insomma un'arma che fu usata durante tutta la guerra fu anche riprodotta in officine clandestine da parte della resistenza e che fece veramente come dire una parte ebbe una parte veramente fondamentale nella guerra nell'esercito britannico e nei movimenti resistenziali aveva dei problemi si si inceppava si ma solitamente bastava dare un bello scrollone al caricatore e ricominciava a sparare come è meglio di prima tutto qui quindi cari signori come sempre aspetto i vostri commenti a proposito dello stan aspetto che mi facciate sapere che cosa ne pensate e come sempre come al solito arrivederci al mio prossimo video ciao